L'Arezzo a calcio femminile non riesce a vincere nel match contro le Chievo Woman, scontro valevole per la seconda giornata di ritorno di Serie B. Le ospiti si sono infatti imposte al comunale per 1-2. Le veronesi passano in vantaggio al 14esimo grazie a un gol di Ketis che colpisce di prima intenzione una palla in uscita dall'area di rigore Amaranto e poi infila la sfera all'angolino con un tiro potente e preciso. La replica delle Amaranto arriva al 27esimo a segnare Razzolini, brava a crederci sul retropassaggio della difesa del Chievo e a spedire la palla in rete. Rientro poi shock per le Amaranto con il gol degli ospiti, un'indecisione clamorosa della difesa dell'Arezzo ne approfitta Begal appena entrata e non sbaglia davanti a Nardi dopo appena un minuto. Le Amaranto accusano il colpo e il Chievo prova a chiudere la sfida, poi in aria e viene ribattuta sul più bello al 56esimo. Mister Mike nel finale inserisce forze fresche ma il risultato non cambia più nonostante gli sforzi dell'Arezzo calcio femminile che sfiora il pari con Diaz, Miotto e sugli sviluppi di un corner a tempo scaduto.